A seguito della pandemia da Covid-19 che ha duramente colpito il nostro Paese, è stata annunciata la firma di un protocollo d'intesa tra il Comitato Italiano per l'Unicef attraverso il Comitato Regionale della Calabria per l'Unicef, la Fondazione Santa Marta di Locri e l'Ufficio Pastorale della Famiglia della Diocesi Locri-Gerace, per avviare con il sostegno e l'accompagnamento di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, una reciproca collaborazione mirata alla tutela dell'infanzia nel territorio calabrese nel periodo di emergenza sanitaria e dopo che questa potrà considerarsi contenuta e terminata. Siamo molto preoccupati per questa emergenza sanitaria, ma ancora di più per gli effetti che si verificheranno tra le famiglie e i minorenni, ha dichiarato il Presidente del Comitato Italiano per l'Unicef, Francesco Samengo. Questi i principali obiettivi del protocollo, che avrà, lo ricordiamo, la durata di due anni e che è stato firmato dal Presidente del Comitato Italiano per l'Unicef, Francesco Samengo, dal Direttore dell'Ufficio Pastorale della Famiglia, Don Pietro Romeo, e dal Presidente della Fondazione Santa Marta Rocco Ritorto. Individuare, promuovere e realizzare iniziative comuni di sostegno alle famiglie calabresi nell'ambito dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti secondari. Ma dobbiamo tutelare la vita nel momento in cui sboccia, nel momento in cui nasce, così come dobbiamo tutelarla nel momento in cui finisce, quindi tutelare gli anziani, come fascia anche debole, e tutelare anche i bambini. Credo che i bambini sono quelli che più hanno sofferto e soffrono questa situazione, ma soffrono anche la situazione di tante famiglie in difficoltà o famiglie senza lavoro, ma anche famiglie disunite. Il bambino ha bisogno di essere accompagnato ancora di più, quindi si vuole creare una maggiore attenzione alle situazioni di fragilità che interessano i bambini, creando sinergia. Ecco, questo protocollo di interesse con l'UNICEF vuole essere un impegno a fare sinergia intorno a questo problema che per noi è molto importante. L'attenzione ai bambini è possibile solo se si crea una rete all'interno della società e noi questo vorremmo fare unitamente dall'UNICEF. L'attenzione ai bambini è un impegno a fare un impegno a fare un impegno a fare un impegno a fare un impegno.